Ho fame Andiamo a cucinare Ho fame 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 è una cosa buonissima è la fine del mondo da oggi inizieremo un back home l'idea in realtà è quella di iniziare un back home è la prima tappa di questo guardatemi negli occhi buongiorno salve ora stiamo provando a fare volare il volo guarda tu lo lanci e decora parlo prima quando devi accendere buongiorno per la prima tappa la prima tappa è la prima tappa 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 benvenuti nel mio canale io mi chiamo Delio Rami ti aspetto prossimamente si parlerà di gastronomia, cucina e tecnologie per la prima tappa la prima tappa per la prima tappa la prima tappa la prima tappa la prima tappa la prima tappa